L'aslo di Teramo sarà la prima in Italia a curare il cancro alla prostata con un innovativo sistema che preserverà dai danni della radioterapia il retto del paziente e permetterà di dimezzare le sedute radioterapiche con vantaggi enormi e successi inimmaginabili fino ad ora. La tecnica è quella di inserire chirurgicamente un palloncino distanziatore tra prostata e retto. Per formare gli urologi teramani a questa innovazione scientifica è arrivato da Lisbona Paolo Costa, luminare del settore, che ha eseguito su un paziente all'ospedale di Atri questo intervento che rivoluzionerà l'approccio ad una malattia che ha un'incidenza altissima soprattutto negli anziani. Questa è una nuova procedura che viene effettuata grazie all'ausilio preziosissimo dei nostri urologi, tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare il professor Vicendini, in particolar modo il dottor Narcisi delle urologie di Atri e di Teramo. È una procedura che, ripeto, ci permette di distanziare il retto dal nostro campo di radiazione che è quello della prostata. E l'ASER è la prima in Italia? Quest'idea è già stata acquisita da qualche tempo nei grossi centri del nord soprattutto, però noi siamo i primi a utilizzare questo particolare device che è un palloncino, che quindi non permette al gel, che distanzia i due organi, di spandersi nelle strutture limitrofe. Oggi è arrivato un luminare a formare gli urologi. Il professor Costa, che è una persona squisita, che è il direttore dell'arioterapia di Lisbona, è il pioniere in questo campo, ha formato qualche tempo fa l'urologio di Teramo, oggi si trova ad Atri e quindi finalmente noi abbiamo la possibilità, tramite i urologi della nostra ASER, di immettere questo particolare dispositivo che ci dà un vantaggio innegabile, ossia quello di ridurre drasticamente la tossicità rettale nei trattamenti del tumore della prostata. All'ASER di Teramo questa grande innovazione allora? Una grande innovazione a testimonianza della sensibilità dell'ASER di Teramo nei confronti dei pazienti, di quella che è l'assistenza dedicata ai pazienti, ma anche nei confronti dei nostri collaboratori che propongono, e noi siamo al loro fianco, un progresso decisamente, un ulteriore momento di crescita, perché è chiaro, noi forniamo le attrezzature, ma poi sono i collaboratori, i validi collaboratori, a proporci e noi siamo al loro fianco. L'obiettivo è sempre uno solo, dare l'assistenza migliore ai nostri pazienti.